Le polemiche, le critiche rispetto alla sua nomina le ha messe da parte? Sinceramente mi occupo e cerco di occuparmi di altro, le chiacchiere le lascio agli altri, sono una persona abituata a lavorare da sempre e continuerò a farlo, quindi le chiacchiere le lascio semplicemente agli altri. Gli elettori mi hanno dato fiducia e io mi auguro di poter lavorare bene, anche per ben ripagare la fiducia che mi ha dato il sindaco, mi impegnerò tantissimo, sono entusiasta della delega che mi ha dato. Ecco, dica la verità, non se l'aspettava la cultura, no? Allora, sono sorpresa, sono sorpresa però nello stesso tempo entusiasta perché sono tutte cose che mi sono vicine e che mi piacciono, quindi lo faccio innanzitutto con grande piacere, questo viene ancora prima dell'impegno, quindi penso che sia anche importante questa cosa, anche per relazionarsi con queste realtà, quindi farò in modo anche di avvicinare i giovani al mondo della cultura e dello sport, che sono delle cose importantissime, quindi il discorso dei giovani insieme a queste due realtà importanti per me sarà di grande importanza.